E allora perché tutta questa paura? Accettateci, perché tutta questa paura? La gente è infelice, la gente è troppo infelice e aspetta noi e noi sappiamo dove andare, noi sappiamo cosa fare, noi abbiamo tante idee, mamma, mamma, sono tutti infelici e noi abbiamo tante idee, noi siamo uguali agli altri, noi siamo come tutti gli altri, noi siamo diversi, noi siamo diversi, noi siamo uguali agli altri, ma siamo diversi, ma siamo uguali agli altri, ma siamo diversi, mamma, mamma, vienimi a prendere! Grazie. Grazie.